di qualificazione. Il suo avversario in questo incontro è il Camerun. Camerun, se non vuole uscire dal torneo in anticipo, dovrà far meglio dell'incontro iniziale terminato con una sconfitta. Grazie per la visione! Buongiorno a Montpellier! Siamo lieti di avervi qui per l'incontro del primo turno del gruppo B fra Italia e Camerun. Vedo che le squadre sono quasi pronte per il fischio d'inizio, allora senza ulteriori esitazioni lascio la parola a Caputi e Bulgarelli. Grazie! Sì, ci troviamo a Montpellier, qui un quarto della popolazione è sotto i 25 anni, è la città più giovane d'Europa ed il giovane Massimo è qui per fare una previsione sulla partita di oggi. Dal momento che hanno vinto la prima partita, se vincono ancora, passano automaticamente il turno. L'importante è iniziare bene e non mollare! Uome! Un'ottima simbolata! Dividio! Dividio! Ciami! Moreau! Ottimo controllo! Viene estratto il cartellino rosso, l'espulsione al minimo dopo un fallo come questo. la palla è sotto il diretto controllo del portiere. In pieno sulla sfera! Buono la simbolata! Grande giocata! Vieri! Cannavaro! Bel passaggio! Oh, grande calcio oggi! Buono l'intervento! La palla è messa fuori! Moreau! Bel tocco! Siamo ancora a reti bianchi alla fine di questo primo tempo! Cosa ne pensi Massimo? Nessuna delle due squadre ha creato grosse azioni nel primo tempo, Giacomo. Credo che negli spogliatoi gli allenatori non saranno teneri con i loro centrocampisti. CAMBIitche! Cosa? Cosa? Ciao! Sacimi sfollängie. Lucina! Ma Lisa! con il fischio dell'arbitro comincia il secondo tempo del match intervento pulito la palla viene recuperata dal portiere ottimo controllo Vieri nessun problema per il portiere aveva già intuito che il pallone sarebbe finito fuori la rimessa dal fondo viene battuta Albertini Del Piero Zola Del Piero la palla va dentro è un gol fondamentale credo che ne valga la pena di rivederlo ecco l'1-0 il meglio deve ancora venire ne sono certo Mareau Albertini siamo nell'ultimo minuto di gioco si ottimo controllo bella un'entrata decisa bel top e con questo fischio finale i giocatori lasciano il campo di gioco sul punteggio di 1-0 è un'ultimo minuto di gioco